Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella panna e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cacao amaro, zucchero, uova, panna fresca, olio di semi di girasole, sale, vanillina, lievito, per la glassa cioccolato fondente e burro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, il cacao amaro, lo zucchero, le uova, il sale, la vanillina, l'olio e la panna. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 5. Aggiungere il lievito ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferire in uno stampo a ciambella da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno prediscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. la ciambella è cotta, lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Una volta fredda preparare la glassa fondendo il cioccolato fondente e il burro ed amalgamarli e decorare la torta. Ciambella, panna e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Ciao!